MIRI 2018 ospiterà un nuovo ed importante evento internazionale la domenica 25 febbraio alle ore 14. Si tratta del iHealth Awareness Day, la prima giornata di prevenzione visiva mondiale. Saranno diversi gli attori coinvolti, in particolare il Ministero Italiano della Sanità, la Commissione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Avremo durante l'incontro all'Otti Club diversi redattori internazionali e l'obiettivo sarà quello di costituire un protocollo internazionale comune su cui poter lavorare nei prossimi anni.